Oggi è un altro step importante per Capacita Building, in collaborazione con l'associazione DAFNE, è un incontro di formazione per i professionisti del settore per quanto riguarda il bullismo, sapere bullismo e disagio giovanile. Abbiamo come ospite un giurista del Foro di Firenze, l'avvocato Paolo Russo, che è specialista nel campo e ci sta indicando quali sono le modalità per poter capire i piccoli campanellini d'allarme che ci arrivano dal mondo dell'adolescenza e dei ragazzini più giovani. È importante capire che viviamo in una svolta epocale in cui tutto circola sui social, sul web, il bullismo, cioè l'atto reiterato da parte dei ragazzini verso i più sensibili, i più deboli, è diventato virale sul web. Ecco dove sta appunto la differenza sostanziale tra bullismo e cyberbullismo. L'anno scorso abbiamo cercato di andare per le strade vicino ai locali con psicologi, educatori, sociologi, per andare a individuare quali fossero le tematiche di approccio nei confronti di questi ragazzi e a grande richiesta hanno chiesto di riproporlo. Siamo andati nelle scuole, un paio di scuole di Lanciano, anzi voglio fare un appello ai dirigenti scolastici perché sono temi estremamente attuali, vediamo i telegiornali tutti i giorni, ci dicono quali sono le notizie di cronaca da parte di questi ragazzini. Considerate che il 70% dei tentati suicidi che arrivano in pronto soccorso sono proprio dovuti al mondo giovanile. Un ragazzino ogni sei è vittima di bullismo, considerate che l'atto di cyberbullismo può anche essere perpetrato una sola volta nei confronti di quel ragazzino, ma col fatto che circola sul web è rivisto, è centuplicato, quindi è una problematica estremamente attuale che bisogna ascoltare. L'ascolto abbatte questa barriera, questa distanza che c'è tra il nostro mondo e il mondo dei giovani ed è importante appunto fare questa programmazione di formazione perché sono argomenti sempre più attuali ma anche sconosciuti per molti, per chi magari non frequenta il mondo dei giovani, il mondo delle scuole, per chi non ancora si è costruito una famiglia, però i campanellini d'allarme ci sono e bisogna sapere quali sono per poter intervenire. Quindi tutta l'amministrazione ha voluto fortemente creare questi incontri formativi, le politiche sociali con l'aiuto di tutto il personale, della dirigente, la dottoressa Samparese, i dipendenti, gli psicologi e gli assistenti sociali che abbiamo a disposizione, si adoperano anche in questo, con questo tipo di progettazione e adesso riandremo nelle scuole laddove ci è chiesto di reintervenire e con grande soddisfazione e orgoglio.